Musica Capodanno blindato in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, 30 steward, controlli per non fare entrare bottiglie di vetro e stop ai botti nei luoghi affollati e nel centro storico. La notte di San Silvestro sarà dunque all'insegna della sicurezza senza però dimenticare il divertimento. E' infatti tutto pronto per la grande festa dell'ultimo dell'anno in piazza Sant'Agostino. E' la piazza che sicuramente ospiterà meglio il pubblico, è quella che si presta un pochino meglio per fare feste di questo tipo qui, l'abbiamo visto due anni fa e quindi quest'anno abbiamo deciso di riorganizzarla in piazza Sant'Agostino. Sarà una festa in grande stile con tutte le difficoltà del caso, qui ringrazio gli organizzatori perché organizzare una festa oggi con tutte le norme e le limitazioni che ci sono è veramente molto molto difficile, molto complesso. Però si sono spesi, si sono adoperati, ancora non è finita perché la commissione pubblico spettacoli ci sarà nei prossimi giorni, ma sarà sicuramente una festa in grande stile. L'ospite più atteso della serata, Sara Morgan, con il suo DJ set. Non mancherà nemmeno la solidarietà con una raccolta fondi per finanziare le attività dell'associazione Autismo Arezzo. Siamo molto contenti di partecipare a questo evento e essendo la prima volta diciamo che è tutto in costruzione, quindi ci piace anche costruire insieme e per migliorare appunto quello che per i nostri ragazzi potrebbe essere poi un futuro. L'evento prenderà avvio alle 21. Con DJ set, poi la musica live di Wheel of Surf, un gruppo rock and roll, poi ancora DJ set con Michele Casini, sempre con il suo rock and roll, rockabilly. E poi il maestro Scartoni a scandire la mezzanotte, a far divertire e ballare tutte le persone, tutte le famiglie, tutti i giovani presenti. E poi a chiusura, direttamente da Firenze, dove sarà la festa prima della mezzanotte in piazzale Michelangelo, arriverà Morgan dall'una in poi a chiudere la serata. Insieme a questo l'animazione per bambini nei spazi di informa giovani e chiaramente il brindisi e il panettone di auguri alla mezzanotte per salutare al migliore dei modi il nuovo anno. Io faccio la parte con la centrale di mezzanotte dove, come sempre, cerco di divertire la piazza, musica, canta.